Apriamo le scritture in Giovanni, al capitolo 4, leggeremo dal versetto 31. Glorie a Dio. Siamo anche onorati, privilegiati per aver ricevuto una chiamata per adempiere i suoi progetti e quant'altro. Il giovedì ho parlato del tempo e dei tempi. I tempi sono un susseguirsi del tempo. Tempo, 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 tempi. Ogni tempo ha il suo momento. Ogni tempo ha bisogno del suo sprone. La spinta. Per ogni tempo ha bisogno della sua visione. A volte il tempo si prolunga o si ridimensiona in base a come il popolo di Dio risponde. Ma credo che la cosa peggiore è non riconoscere il tempo in cui uno si trova. Si va sempre alla ricerca di un altro tempo. Ma non si massimizza il potenziale del tempo in cui si vive. Quindi ritengo essenziale, credo che lo ritiene essenziale, e il Signore qua ci fa vedere qualcosa nella sua parola, per farci capire che quando Lui ha già designato un tempo, per una missione, non bisogna perdere il momento. Leggeremo dal versetto 31 del capitolo 4 di Giovanni. Dice così, intanto i suoi discepoli lo pregavano dicendo Maestro, mangia! Questa è la storia dove Gesù si sente per lo spirito di andare in San Maria. Arriva là, si avvicina al pozzo di Giacobbe, di Sicar, se ricordo bene, e la incontra una donna, la donna samaritana, e la storia la conosciamo. Ma è interessante che quando Gesù si sente di andare in qualche posto, è già mentalmente, spiritualmente, emotivamente, entrato in un tempo diverso. E' come se Lui entrasse in un tempo, io so che cosa devo fare, il Padre richiede qualcosa da me, e io lo devo portare a compimento. Arriva dove doveva arrivare, immediatamente scatta il tempo, dal dire, dal pensare, dalla rivelazione, si passa al fare, e in quel momento Gesù, che cosa fa? Incontra una donna, una donna samaritana, comincia a parlare con questa donna, e la storia la sappiamo. E' interessante che i discevoli lasciano Gesù in quel tempo, in quel momento, lo lasciano perché loro stanno vivendo in un altro tempo, in un altro momento. Cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che Gesù aveva fame e passione per qualcosa d'altro, mentre i discevoli avevano fame e passione peraltro ancora. Continuiamo a leggere. Ma egli disse loro, versetto 32, io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. Cioè, io sto mangiando mentre voi pensate che io non abbia mangiato niente. E voi venite mi portate il mangiare del vostro tempo e mi dite mangia. Maestro, mangia. Ma i discevoli non avevano capito che Gesù si trovava, era catapultato in un altro tempo per una rivelazione. Sapete quanto è durato questo tempo? Due giorni. Diciamo insieme due giorni. È durato solo due giorni perché Gesù si ferma in Samaria, qui presso il pozzo e in questa città solo per due giorni e in due giorni ci fu un grande risveglio in quella città. Due giorni. quando Gesù è chiamato a qualcosa non esita ma mette entrambi i piedi laddove è necessario. Ma non solo ci mette i piedi ci mette la mente ci mette il cuore ci mette la passione ci mette il tutto del suo essere al punto dove anche se avesse fame fisicamente quello non lo soddisfa. E Gesù dice dice io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete i discepoli perciò si dicevano l'un l'altro gli ha qualcuno forse portato da mangiare perché l'unica cosa che loro capivano era il loro tempo ma non il tempo di Gesù. questi capivano che era era l'ora sesta dice la scrittura quindi era mezzogiorno l'ora sesta era mezzogiorno quindi dicevano a mezzogiorno che cosa si fa? A mezzogiorno si mangia e loro hanno fatto la cosa giusta sono andati a comprare del pane del cibo l'hanno portato a Gesù pensando che Gesù fosse nel loro tempo ma Gesù dice aspetta dice i discepoli perciò si dicevano l'un l'altro gli ha forse portato qualcuno da mangiare Gesù disse loro il mio cibo diciamo insieme il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere la è un pane diverso un momento diverso una passione diversa una fame diversa per delle cose di Dio invece di aver fame per le cose naturali i discepoli vivevano in quel tempo il tempo delle cose naturali c'è un tempo per le cose naturali ma bisogna percepire quando c'è il tempo per le cose spirituali e quando scatta quel tempo quel momento bisogna afferrarlo il regno di Dio soffre violenza e coloro che sono violenti se ne impadroniscono lo prendono a forza cioè questo è il momento non mi farò rubare il momento questo momento è prezioso non capire i tempi di Dio non capire il momento di Dio significa rimanere fuori come un incuriosito per vedere quello che sta succedendo altrove ma quanti noi vogliamo partecipare nell'opera di Dio Gesù disse questo è il mio cibo io ho fame per queste cose non per quelle cose voi mi dite mangia maestro come se mi voleste tirar fuori dal mio momento dal mio tempo per portarvi nel vostro momento nel vostro tempo e io non ci sto perché ho due giorni a disposizione e non mi le farò sfuggire dice Gesù disse loro il mio cibo e fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua poi che cosa fa fa riferimento al tempo dice non dite voi che vi sono ancora quattro mesi e poi viene la mietitura non dite voi che ancora ci vogliono quattro mesi affinché si manifesti quel tempo io credo che la Chiesa ha sofferto tantissimo per non aver compreso i tempi di Dio oppure per insistere che il nostro tempo ha più valore del suo tempo ho dato questa illustrazione giovedì i discepoli si trovavano con Gesù nel Gezzemani Pietro, Giacomo e Giovanni con Gesù Gesù entra nel Gezzemani prima della sua passione entra nel Gezzemani lì dice ai suoi tre discepoli voi rimanete qui Gesù si distanziò da poco se ne andò si mise in ginocchio comincia a pregare a grumoli di sangue prega poi dopo un po' di tempo saranno passati quindici minuti venti minuti non lo so si alza va dai suoi discepoli e dice allora anzi li vede dormire dice non riuscite a vegliare con me ho capito voi vi trovate in un tempo diverso il mio tempo non è il vostro tempo che chissà come hanno reagito questi questi discepoli forse hanno detto si sono detti l'uno all'altro aiutami a stare sveglio Gesù ritorna al suo posto continua a pregare Signore se questo se è possibile che questo calice vada oltre di me ma dice ma non di meno la tua volontà sia fatta non la mia e prega ancora a grumoli di sangue molto intenso poi si alza viene dai suoi che sono i pilastri sono le colonne della sua missione e guarda questi tre Pietro Giacomo Giovanni e dice ancora dormite si svegliano porta dobbiamo stare svegli dobbiamo pregare Gesù ritorna al suo posto continua a pregare a grumoli di sangue ancora la terza volta si alza va dai suoi li vede ancora dormire dice ancora dormite non siete riusciti a svegliare un'ora con me capisco questo è il mio tempo non è il vostro tempo capisco ma Signore io darò la mia vita per te quello che tu vuoi la tua volontà sia fatta in me tutto quello che tu vuoi io lo vado a fare a un certo punto hanno perso loro anche il tempo Gesù dice alziamoci andiamo via da qui questo tempo è passato poi c'è l'arresto di Gesù e così via ma il tempo si può anche perdere il momento si può anche perdere un'altra storia il Signore libera il popolo di Israele dall'Egitto escono e adesso stanno andando verso Canaan la terra promessa la terra che scorre latte e miele wow meraviglioso tempo arrivano nel deserto e questi decidono di mandare dodici spie in Canaan dalla storia sappiamo che sono andati sono dodici sono andati incluso c'era con loro due di loro erano Giosuè e Caleb e questi dodici sono andati hanno visto con i loro occhi e quant'altro ma quando sono tornati a dare il resoconto di quello che avevano visto dieci di loro hanno detto ci sono giganti forse qualcuno è convinto che Dio non riesce a portare a compimento quello che è iniziato forse qualcuno è convinto che la nostra fede sfocerà in delusione ma io sono qui per dirvi che tutti vi sbagliate tutti di voi anzi ci sarà il momento il momento di rappresentare è qualcosa che ho scoperto da quella scrittura non l'avevo mai visto che il Signore era indignato con questi dieci e morirono tutti tutti e dieci morirono solo due e il Signore ce l'aveva con loro perché hanno dato un resoconto negativo sono andati in giro a dire a tutti che non è possibile e morirono e il Signore ce l'aveva con loro perché avevano seminato dubbio nel popolo di Dio e l'unica voce che si trovava nel tempo di Dio cioè la voce di Giosuè e di Caleb che erano in sintonia con i tempi di Dio che si muovevano con il Signore rimasero fermi e dissero no 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 questi dieci si sbagliano l'abbiamo visto con i nostri occhi ma siamo pure convinti che se Dio è per noi chi può essere contro di noi se ci piace quella scrittura la sappiamo recitare o se Dio è per noi chi può essere contro di noi fino a quando ci troviamo davanti ad una impossibilità e poi cominciamo a pensare che Dio non può in quella situazione ma io sono qui per dirvi che Dio non solo farà quell'opera ma ne farà anche opere più grandi sappiamo la storia questa avviene anche in Samaria la storia di Eliseo quando c'era la fame e quello quel generale accanto al re perché Eliseo aveva detto domani con tutta sta carestia con tutta sta fame che c'è domani dice l'orzo costerà poco e niente colui che ha avuto dubbio gli ha detto ha detto a Eliseo che era impossibile Eliseo gli ha detto per te è impossibile anzi tu lo vedrai con i tuoi occhi ma non ne mangerai fratelli io non voglio fare la fine di quell'uomo io voglio credere a Dio lì Dio dell'impossibile che può fare ogni cosa come posso io continuare a credere che Dio è il Dio dell'impossibile se non mi trasferisco dal mio tempo al suo tempo che cosa stai vivendo che cosa stai vedendo che cosa stai sentendo che cosa stai preparando per il tuo popolo non lo vedo ma signora aiutami a vederlo perché io lo voglio vedere abbiamo cantato stamattina fammi vedere voglio vedere fammi vedere voglio vedere con gli occhi spirituali chiusi non riuscirai a vedere nemmeno se te lo metti davanti sentirai la gioia degli altri sentirai l'esuberanza degli altri che la stanno godendo ma non la sperimenterai cosa stiamo dicendo stiamo dicendo che c'è un tempo per ogni cosa e dobbiamo essere flessibili abbastanza riconoscendo il tempo di Dio e spostarci dal nostro tempo al suo tempo i discepoli quei discepoli avrebbero dovuto dire signore che cosa stai facendo sto evangelizzando questa donna e noi vogliamo rimanere qui insieme a te perché non vogliamo perdere il momento non vogliamo perdere il tempo mangiare ma quella è un'altra cosa anche per noi questo sarà cibo cosa è cibo per te cosa ti soddisfa cosa soddisfa la tua vita una carriera cosa soddisfa la tua vita avere soldi carriera soldi parlando con i tanti che hanno guadagnato e stanno nel benessere sono ancora insoddisfatti nella propria persona perché c'è un vuoto dentro che può essere solo riempito dalla presenza di Dio e del volere di Dio il tempo di Dio lo procura andiamo a Ecclesiaste capitolo 3 Ecclesiaste capitolo 3 state seguendo capitolo 3 versetto 1 dice per ogni cosa c'è la sua stagione c'è un tempo per noi per me Lidia di andare in vacanza ma c'è un tempo per tornare ora ce ne torniamo in America ritorniamo di nuovo per ogni cosa c'è la sua stagione c'è diciamo insieme un tempo per cosa ogni ogni cosa ogni situazione sotto il cielo c'è un c'è un tempo e la vita è fatta di tempo o del susseguirsi del tempo tempo dopo tempo dopo tempo dopo tempo e non riconoscere massimizzare quel momento quel tempo in cui ci troviamo mi piace Salomone che scrive nel cantico di Salomone che parla di tutti tutti i centadudenti che lavano tutti belli mancare il tempo è come mancare un dente poi il sorriso pare un po' strano e la chiesa è così bella degna del suo sposo bello lui però quando la sposa la chiesa sorride state tranquilli non sto parlando di nessuno ma sto solo dicendo che l'apparenza della chiesa cioè alla chiesa mancano tanti tempi non realizzati perché i tempi in cui il signore ci ha detto fai questo ma non mi sento ma devo fare altre cose quel tempo passa e per distondente mi state seguendo non voglio una chiesa di spiritualmente sdentati ma che ci sia un sorriso genuino nella chiesa con la dimostrazione che ogni momento e tempo che il signore ci ha presentato ci siamo mossi con lui e quel tempo può durare anche due giorni come nel caso di Samaria è durato solo per giorni e la scrittura dice dopo due giorni il signore se ne andò da lì dopo due giorni a volte pensiamo se dovessi pensare io così non farei mai la scuola biblica perché per fare la scuola biblica io devo essere presente il cento per cento delle volte mentre gli altri fanno attorno capisco per lavoro e quant'altro ma quando il signore dice di fare qualcosa fanno tutto quello che Maria disse tutto alle nozze di cana ha detto tutto quello che il maestro vi dice di fare fatelo fatelo è il momento e alle nozze di cana Gesù dice mamma tu sai che questo non è il mio tempo ma che ti posso dire a volte il signore deve usare altre persone per innestarti nel tuo tempo immetterti nel tuo tempo inserirti nel tuo tempo avviarti nel tuo tempo perché forse qualcuno non ha il coraggio di entrare in quel tempo ma ci sono forse altre persone intorno a noi che riconoscono il tempo mentre noi nemmeno lo riconosciamo fanno le cose a stento quando era tempo per noi per Lidia e io di venire in Italia e il signore ha detto questo è il tempo di andare e io ho detto al signore ma questo bene perché andare e il signore mi ha fatto capire questo è il tempo ci siamo guardati io e Lidia abbiamo tagliato tutto e abbiamo detto signore noi ci andiamo se stiamo qui non è per vantare la nostra obbedienza ma è perché lui ci ha chiamati ed è giusto rispondere all'appello che dite voi e quando è il momento quando un tempo si presenta è tempo di ubbidire devo andare oltre per finire se no dice un tempo guarda il versetto 2 sempre Ecclesiaste 3 in questo capitolo per ben 31 volte se ricordo bene 31 volte è scritto la parola tempo un tempo per nascere e un tempo per morire non facciamo sempre funerali del continuo 10 liberi ma tra qualche funerale e l'altro c'è anche quando dedichiamo un bambino una bambina al signore c'è un tempo per l'uno e c'è anche il tempo per l'altro ma sono sempre tempi un tempo per piantare e un tempo per sradicare ciò che è piantato un tempo per uccidere per favore non obbedite a questa parola un tempo per uccidere e un tempo per guarire un tempo per demolire e un tempo per costruire alleluia questo è quello che facciamo noi demoliamo pensieri e a volte cerchiamo di demolire immaginazione e pensieri in altri che ci vuole una bomba d'omaga riconosci il tempo dichiara per te stesso quante voi avete fatto delle decisioni per l'anno nuovo quest'anno io vorrei perdere 17,8 kg io quest'anno quanti noi facciamo delle decisioni per l'anno nuovo solo per essere delusi alla fine dell'anno anzi la delusione a volte ci incontra dopo 20 giorni mi sono mi ero proposto di leggere tutta la bibbia in un anno e già il secondo giorno già mi sono arreso c'è un tempo per ogni cosa e a volte ci rinchiudiamo nei nostri pensieri o meglio dire a volte è Satana stesso che ci fa rinchiudere in certe certe immaginazioni perché vuole vedere la nostra delusione e il nostro cuore spesso viene meno quando sentiamo queste delusioni è come se non ci possiamo riprendere più ma questo è il tempo di riprenderci non perché è l'anno nuovo perdonatemi ma non sento che riuscirò a finire questo oggi però devo dire questo il popolo di Dio si trova un bivio tante volte noi odiamo il presente sapete perché odiamo il presente perché il nostro presente è l'esito del nostro passato però tu hai oggi tu hai oggi dice alla persona tu hai oggi alla persona accanto tu hai oggi per cambiare l'esito di domani quindi c'è sempre speranza per i figlioli di Dio non siamo vincolati nelle cose di ieri ma siamo vincolati nelle cose del futuro perché oggi abbiamo deciso di vivere nel tempo di Dio dice alla persona accanto è tempo alleluia è un tempo per saltiamo e uccidere un tempo per piangere nessuno vuole piangere ma c'è un tempo anche per piangere il Signore ha dato il tempo al popolo di Israele per fare cordoglio per la morte di Mosè ha dato 30 giorni piangete piangete dopo 30 giorni è tempo di alzarsi era il tempo quei 30 giorni era un tempo il Signore ha dato 7 giorni a Giuseppe di rimpiangere la morte di suo padre 7 giorni alla fine è finito quel tempo alzati ci sono ancora persone che fanno cordoglio per mancanze e fallimenti del proprio passato ma quando ti rialzi grazie diciamolo insieme ora questo è il momento di rialzarci questo è il momento di rialzarci e questo è il momento di guardare avanti e dire oggi è il mio ponte per raggiungere la meta del mio domani è un tempo un tempo per piangere e un tempo per ridere e c'è un tempo per ridere sono i religiosi che ci dicono fai un santo io ho letto che il Signore siede in cielo e ride se ride lui posso ridere anche io un tempo per far cordoglio e un tempo per danzare no quello non è spirituale un tempo per gettare via pietre e mucera a mano non c'è scritto un tempo per gettare via pietre e un tempo per raccogliere pietre un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci un tempo per cercare un tempo per perdere un tempo per conservare un tempo per buttare via buttare via signore alleluia va bene andiamo un tempo per strappare un tempo per cucire un tempo per tacere tacere scusare e un tempo per parlare un tempo per amare e un tempo per no non adiare un tempo per la guerra ricordatevi che tutto l'antico testamento deve essere filtrato attraverso il nuovo testamento ok quindi la Bibbia che dobbiamo odiare no odia il peccato ama il peccatore un tempo per la guerra e un tempo per la pace wow mi stancai solo muolegge tutti questi tempi tutti questi tempi che il Signore ci aiuti a onorare il tempo in cui ci troviamo dice la parola di Dio ci dice dice che le mie vie non sono le vostre vie e i miei pensieri non sono i vostri pensieri poiché le mie vie e i miei pensieri sono più alti quindi se tu vuoi vivere da sconfitto continua a vivere nei tuoi tempi ma se vuoi vivere da vincitore qualcuno che ha speranza per il domani e per le cose di Dio fai uno scambio radicale dai a Dio dai a Dio i tuoi tempi e prenditi il suo tempo e la nostra preghiera dovrebbe essere Signore fammi entrare nel tuo tempo alleluia dove sei presso il pozzo io da quel pozzo non mi muovo io rimarrò lì questi che hanno fame lascia loro andare in città e comprarsi il pane perché loro vivono nel loro tempo ma non stanno vivendo nel tempo di Dio io voglio vivere nel tempo di Dio io non so in quale tempo voi volete vivere ma io ho fatto la mia decisione voglio vivere nel tempo di Dio e in quel tempo voglio muovermi quello è il mio pane quello è il mio cibo non quello che mi portano gli altri quando alcuni fratelli e sorelle vengono da me per dirmi mangia pastore mi stanno invitando a mangiare pane del loro tempo e io lo rifiuto non ti offendere pastore facciamo questo facciamo quest'altro no no io rimango nei tempi di Dio e se Dio ha detto che farà le cose lui e quando vuole il mio la mia collaborazione mi farà sapere allora io aspetto che lui mi dica quando fare le cose perché precipitarmi e fare cose che non sono nel suo tempo e io lo ringrazio perché quando prima di venire qua io ho pensato subito ho detto signora una chiesa quando il signore ancora ci parlava all'inizio prima di arrivare qui già vedevamo per fede un locale una chiesa che ne sa mille duemila anime avevamo tutti sti castelli e il signore non ha detto niente di questo però poi il signore mi parla e mi dice per fare questa opera passeranno 30 anni si buongiorno 30 anni l'ho ricevuto a 42 anni quindi da 72 ora ne faccio 65 ancora 7 anni c'è ancora lavoro da fare signore signore aiutami però penso che dobbiamo fermarci qui si fermo qui e riprenderemo la prossima settimana alziamoci in piedi alleluia 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 quanti noi siamo stanchi di vivere nel nostro tempo abbiamo messo tutti i nostri obiettivi io farò questo io andrò qui io farò lì quanti noi siamo rimasti delusi da tutte le nostre imprese e quanti di noi abbiamo detto signore benedici l'opera delle mie mani Dio benedice l'opera delle sue mani e se lui ci ha comprati e noi siamo suoi è perché noi dobbiamo fare quello che vuole lui perché lui ha detto che le sue vie sono migliori i suoi pensieri sono migliori dei nostri e tu ancora insiste a fare le cose a modo tuo con i tuoi sogni ma Dio ha i suoi sogni per te chiudo con il versetto 11 anzi leggo dal versetto 9 che vantaggio ha chi lavora da tutto ciò in cui si affatica ho visto l'occupazione che Dio dà ai figli degli uomini perché vi si affatichino dice ho visto l'occupazione che Dio dà ho visto diciamo insieme l'occupazione che Dio dà non che io vada a prendermi l'occupazione che Dio dà Dio dà ai figli degli uomini perché vi si affaticano e il Signore dice fai questo ho preparato questo per te fai questo versetto 11 dice egli il Signore ha fatto ogni cosa bella siamo d'accordo su questo? ma come? chi si ricorda all'altra parte? nel suo tempo egli ha fatto cioè che vivere nel suo tempo si vive anche con l'approvazione la sua compagnia le sue parole il suo incoraggiamento perché stiamo facendo esattamente quello che gli è gradito ha persino messo l'eternità nei loro cuori senza che alcun uomo possa scoprire l'opera che Dio ha fatto dal principio alla fine ho così compreso che non c'è nulla di meglio che rallegrarsi e far del bene mentre uno vive noi abbiamo tanti tanti nobili sogni visioni ma io dichiaro infatti mio figlio il più grande mi ha mandato un messaggio per dirmi che stava leggendo un libro e questo libro gli diceva che sognare e dichiarare erano essenziali per la vita del cristiano la rivelazione è importante però ho detto se non è accompagnato dal fare diventa una delusione molti di noi abbiamo fantasticato il nostro futuro da bambini quando io sono grande pastore Davide voleva giocare per la Juventus purtroppo sto scherzando e io per il Milan però eccoci qua il signore ci mette in compagnia un juventino è un milanista che il signore ci liberi comunque il signore sa e conosce ogni missione per la nostra vita sia a livello personale che a livello collettivo lui ha un progetto nella quale noi vogliamo entrare con entrambi i piedi con piena passione e dire signore quest'anno 2023 ho detto questo giovedì sera io voglio vedere questo luogo riempito interessa vedere questo luogo riempito ok però non di riciclati non di riciclati noi vogliamo vedere anime nuove che accettano Cristo nella loro vita come piccoli fanciulli e dobbiamo pregare quest'anno 2023 faremo decideremo noi ascolto voi sapete che guardando il tempo dite oh come rosseggia il tempo il cielo dice domani ci sarà buon tempo dice siete scaltri per riconoscere quel tempo ma non siamo in grado di riconoscere i tempi spirituali in cui Dio ci pone che Dio ci aiuti a riconoscere che il tempo in cui questo 2023 per noi è un tempo cosa faremo con il 2023 abbiamo sbagliato forse tante cose nel 2020 2021 2022 sicuramente fin dall'inizio abbiamo sempre fatto qualcosa che forse non dovevamo fare ma se questo è una se la grazia di Dio continua ad accompagnarci il Signore leggeremo a Geo la prossima settimana per come il Signore dice questo è il tempo il tempo di fare qualcosa di diverso è tempo di riconoscere è tempo di fare è il tempo di mettere le mani alla rata ci sono tante visioni tanti sogni nei cuori dei tanti però ciò che regna supremo è la visione che Cristo ha per la sua Chiesa Padre noi ti ringraziamo per la tua parola Signore fa che questa parola possa penetrare le parti più recondite della nostra vita del nostro essere e portare frutto restaurare speranza e visione e dire Signore come posso esserti utile nel 2023 non pensare al 2024 al 2024 ci penserai tu Signore ma il 2023 questo è il tempo come se noi avessimo raggiunto Samaria siamo arrivati a questo pozzo Signore è da questo pozzo noi desideriamo bere Signore della fonte della vita Gesù Cristo che cosa hai per noi per questa Chiesa per il 2023 Signore ti preghiamo che tu possa allargare la visione e l'ultima predicazione fatta a dicembre se ricordo bene è stata giubila o sterile giubila è tempo di allargare la tenda Signore è perfetto e noi lo vogliamo fare Signore non vogliamo fare la raccolta dei tanti ma vogliamo anime nuove Signore che accettino Gesù Cristo e se gli altri vengono vengono pure ma intanto Signore vogliamo vedere anime nuove convertirsi a Gesù Cristo questo è l'obiettivo del 2023 nuove anime Signore li accogliamo apriamo questa casa offriamo l'amore tuo la grazia tua la tua misericordia e sia allontanata da noi Signore ogni ingiustizia ed impietà sia allontanata da noi ogni legalismo e ogni cosa che fa parte del sistema religioso dacci grazia e amore per aprire le nostre braccia e accoglierli nel nome di Gesù l'Eterno vi benedica e vi custodisca l'Eterno faccia risplendere su di voi il suo volto e vi dia pace ogni momento a voi personalmente e alle vostre case nel nome di Gesù Cristo andate in pace Amen